Benvenuti nella mia solita diretta del giovedì sera, durante la quale potete farmi delle domande via chat, cioè scrivendole in chat. Ricordatevi che potete sempre anche mandarmele prima della diretta via email, ho messo l'indirizzo in descrizione, comunque è facile perché infochiocciola marcocavicchioli.it Questa settimana non ne ho ricevute nessuna, quindi partirò direttamente con le notizie che mi scriverete via chat. Ovviamente come al solito permettetemi di ringraziare il mio sponsor, lo sponsor dell'intero canale YouTube che è CryptoRefils, ovviamente vi ho anche messo in descrizione l'indirizzo del loro sito. Vi consiglio di andare a guardare per l'appunto il loro sito web perché ci trovate tutto l'elenco dei siti di commerce e dei negozi in cui potete fare acquisti pagando in criptovalute utilizzando il loro servizio, cioè quello dei buoni acquisto. Si va su CryptoRefils, si comprano dei buoni di acquisto pagando in criptovalute, questi buoni di acquisto sono in euro e poi dopo si vanno a depositare sui vari siti di e-commerce e quindi li potete usare per fare acquisti. Sì, è un sistema molto facile, molto veloce, ve lo consiglio, oltretutto è molto comodo quando si hanno delle stable coin perché magari questa conversione la si fa quando il dollaro è un po' più alto e l'euro un po' più basso e quindi magari ci si guadagna anche un pochettino sul tasso di cambio perché ovviamente i buoni di CryptoRefils sono in euro, quindi per quello che poi potete usarli in un sacco di siti web eccetera. Allora, io oggi vorrei partire con farvi un attimo una panoramica su uno scenario piuttosto importante. Fatemi aggiungere, io le cose che vi sto per dire in realtà le racconto in diretta quasi, cioè appena avvengono sul mio profilo X, quindi andatemi a cercare su X, seguitemi lì perché in quel modo avete tutte le notizie aggiornate quasi in diretta. Allora, quello di cui voglio parlare è il mercato asiatico. Mi spiego. Ieri il prezzo di Bitcoin a un certo punto è decollato ed è andato fino a 35.000 dollari e poi 36.000 dollari. Ebbene, a 35.000 dollari c'è andato dopo la fine praticamente della conferenza stampa della Fed, quando i mercati hanno capito che insomma la situazione non è per niente male, magari non è eccezionale, non è buonissima, però comunque non è per niente male, hanno preso un po' di fiducia ed è salito, tra te che oggi anche le borse americane stanno salendo. Ma la cosa interessante è che il record, cioè i 36.000 dollari che sono il record massimo annuale di tutto il 2023, sono stati toccati quando hanno aperto le borse cinesi, dopo l'apertura delle borse cinesi. Perché a mio parere da un po' di tempo a questa parte sono in particolar modo i mercati asiatici a tirare Bitcoin, in particolare per due motivi, o meglio il motivo di fondo è lo stesso, però per due eventi che stanno accadendo. Cioè ci sono sia la Cina sia il Giappone che sono di nuovo lì che immettono liquidità. Il Giappone proprio ieri ha annunciato, o stamattina, ha annunciato un nuovo piano di stimoli da 100 miliardi di dollari, ovviamente lo fanno in iene, non in dollari. Mentre invece la Cina è un po' di tempo che sostiene i propri mercati finanziari iniettando liquidità. Tant'è che parecchi giorni, parecchie volte nelle ultime settimane, il prezzo di Bitcoin è salito di notte, cioè quando i mercati asiatici erano aperti, cioè quando c'erano queste iniezioni di liquidità. Ebbene, io ritengo possibile che queste iniezioni di liquidità da parte dei mercati asiatici, non solo, è quello cinese, anche quello giapponese, potrebbero andare avanti ancora per un po', per mesi, per diversi mesi. Il prossimo anno ci sarà l'Albing, ad aprile 2024, e dovrebbero arrivare relativamente a breve gli ETF su Bitcoin Spot negli Stati Uniti. Tra l'altro ci sono i grossi emittenti di questi ETF, in particolare BlackRock, che li stanno già pubblicizzando, quindi probabilmente li vogliono proprio vendere, e ricordatevi che se vengono comprati quegli ETF, di conseguenza i gestori dovranno andare a comprare Bitcoin sul mercato. Quindi c'è tutta una situazione che sta convergendo sull'anno prossimo, è da seguire perché, per carità, hanno detto che tutto ciò tenga. Bisognerà capire, giorno per giorno, settimana per settimana, mese per mese, se questa situazione regge, se evolve, o magari cambia, e se l'evoluzione sarà effettivamente questa, il prezzo di Bitcoin potrebbe trarne giovamento, proprio perché da un lato abbiamo l'immissione di liquidità, anche se non sui mercati statunitensi, dove fino a giugno e l'anno prossimo non verranno tagliati i tassi, il QT sta continuando, quindi stanno continuando a ritirare liquidità, però non è che ne ritirino poi tanta, però i mercati asiatici la stanno mettendo, questo è importante, e contemporaneamente però invece negli Stati Uniti d'America potrebbe esserci un successo degli ETF su Bitcoin spot. Quindi questa situazione è da seguire. Poi ricordatevi che i mercati cripto seguono di conseguenza, nel senso che se Bitcoin sale, poi salgono anche gli altri mercati cripto. Allora, passiamo alle domande. Io questa introduzione ve l'ho voluta fare proprio perché vi voglio far capire che bisogna, questo è proprio il momento di seguire, da qua a un anno bisogna seguire molto bene le evoluzioni, perché poi se no si rischia che sia troppo tardi, ok? Perché poi una volta, se dovesse partire una bull, una volta che partite, partite. Allora, partiamo con la prima domanda. Vorrei sapere cosa ne pensi del token CROW. Allora, CROW è il token di Kronos, che è la blockchain di Crypto.com, cioè dell'exchange Crypto.com. Allora, diciamo subito che Crypto.com se l'è vista un po' brutta, perché ovviamente il token CROW dipende da cosa fa Crypto.com, se l'è vista un po' brutta l'anno scorso, però è emerso molto bene, hanno dato segno chiaro di essere seri, e adesso che non c'è più FTX, adesso che c'è anche Binance che in Europa toglie le carte, le carte Visa di Binance verranno praticamente eliminate a dicembre, il prossimo mese, ecco che Crypto.com inizia a diventare particolarmente interessante, perché è usato soprattutto per le carte, ok? Crypto.com. E quindi, il token CROW è andato molto giù, vediamo se riesco a recuperare il dato, perché ha fatto veramente una parabola discendente notevole CROW. Allora, praticamente, eccolo qua, l'ho trovato, praticamente in questo momento CROW è a meno 93% dai massimi. Tenete presente che Bitcoin è solo a meno 49% dei massimi, Ethereum a meno 63%, quindi meno 93% è davvero tantissimo, e nel corso di quest'anno, praticamente, il minimo è stato toccato il 12 di ottobre, a 0,0, sotto gli 0,05 dollari. Quindi è solo da pochissimo che si è ripreso, nell'ultima settimana ha fatto un più 10%, è molto interessante questo più 10% dell'ultima settimana, dopo aver toccato i minimi, primo perché quelli attualmente sono dei minimi, poi non è detto che non ne faccia gli altri, però sono un punto molto basso, sembra esserci stato un ribalzo, e con il fatto che la Binance Card non verrà più usata in Europa da dicembre, potrebbero aumentare gli utenti di Crypto.com. Quindi io inviterei a seguire le evoluzioni di CROW da adesso in poi, perché è andato giù talmente tanto che quando capitano queste cose, ad un progetto solito come questo, comunque un progetto solito, dietro c'è un grande exchange, e poi magari, diciamo così, la discesa si ferma, andando giù così tanto in basso. Quindi seguitelo, perché decisamente, in questo momento è decisamente interessante, sia Croc, che ovviamente Crypto.com, che l'exchange. Andiamo avanti. Allora, altra domanda. Quale software utilizzano i miner per poter trasmettere i nodi validanti della rete, i nuovi blocchi minati? Allora, dovete sapere che, allora, facciamo prima una distinzione, tra il software che usano i nodi, chi sono i nodi? I nodi sono quelli che detengono la blockchain, e quindi quelli che effettivamente aggiungono i blocchi alla blockchain. Mentre invece i miner sono quelli che convalidano i blocchi, e li mandano, li inviano ai nodi. Ebbene, il software che fa il mining, che non è quello che serve per gestire un nodo, quando riesce a convalidare un blocco, cioè a trovare l'hash che lo conferma, invia questi dati a tutti i nodi. Bitcoin Core è il software dei nodi. Non è l'unico, è il principale. Bitcoin Core è praticamente l'evoluzione di quello che aveva fatto Satoshi Nakamoto, anche se, per la precisione, quando Satoshi Nakamoto non c'è Bitcoin nel 2009, c'era un unico software, si chiamava Bitcoin, e faceva tutto. Faceva da wallet, faceva da nodo, faceva da miner. Poi dopo, invece, si sono evoluti, ci sono software che fanno solo wallet, software solo nodi, Bitcoin Core fa solo nodo, e i software per i miner. Poche parole, i software per i miner, quando trovano l'hash, lo inviano, lo sparano, diciamo così, a tutti i nodi, la maggior parte dei quali sono in Bitcoin Core. Quindi, ovviamente, serve poterlo fare un software apposito che è quello dei miner. Io, sinceramente, non credo nemmeno che ci sia un software per i miner, perché, ad esempio, le pool che fanno mining, credo che abbiano un loro software fatto proprio da loro proprietari. Allora, vediamo, invece, quest'altra domanda. In un tweet di qualche mese fa era abbastanza negativo su un Bitcoin in chiusura a 45-50 mila o dolla entro fine anno. Ora pensi che potrebbe essere più realistico? Ci fermeremo qui. Allora, 45-50 sono tanti. In questi giorni, proprio su X, stiamo valutando diverse ipotesi con altre persone che seguono i mercati cripto. In questo momento si sta ragionando sui 40 mila dollari. Cioè, non vi sto dicendo che, secondo me, arriverà a 40 mila dollari. Ok? Ricordatevi che io non sono in grado di fare previsioni. Ma vi sto dicendo che, dato quello che ha fatto e dove è arrivato, non ci sarebbe nulla di strano, non stupirebbe minimamente se il prezzo di Bitcoin entro fine anno andasse ancora su fino a 40 mila dollari. 45-50 mila, invece, in questo momento, a mio parere, vanno ritenuti dei livelli un po' anomali. Nel senso che, se dovesse arrivarci, forse c'è qualcosa da andare a capire bene. Per carità, poi, può anche essere che se entro fine anno esce la notizia dell'approvazione dell'ETF di BlackRock, il prezzo possa fare un botto, magari uno spike, e andare anche oltre 40 mila, ma poi magari tornare giù. Cioè, qua, la cosa, bisogna capire se con queste cifre ci riferiamo ai singoli picchi oppure a livelli che vengono ottenuti costantemente. Ad esempio, ieri sera c'è stato un picco, ieri notte, c'è stato un picco a 36 mila dollari, ma è stato solo un picco poi tornato subito giù. Il vero valore in questo momento è 35 mila dollari, ok? Perché è lì che sta oscillando, chi se ne frega del picco. Quindi un picco sopra i 40 mila dollari ci sta perfettamente. Da lì a dire che il prezzo di bitcoin intorno a fine anno possa stabilizzarsi attorno a 45-50 mila dollari secondo me è ancora un po' prematuro. Mentre invece sembra relativamente come dire plausibile che possa invece andare fino a 40 mila. Tenete però presente una cosa che io non mi stupirei nemmeno se tornasse a 30 mila, ok? Quindi vi sto dicendo da dove adesso se va a 40 mila è nella norma se va a 30 mila è nella norma, ok? Non vi sto dicendo che va a 40 mila. Mentre invece 45-50 sono un po' alti anche perché tenete presente che è vero che spesso i massimi e anche i minimi annuali vengono fatti a fine anno quindi a novembre o a dicembre però comunque quello di ieri potrebbe anche essere il massimo di quest'anno, ok? poi molto dipenderà dalla reazione dall'approvazione degli ETF però quando è che Bitcoin fa questo tipo di vere e proprie bullrun perché se andasse a 45-50 mila partendo dai 30 mila di qualche giorno fa sarebbe una piccola bullrun queste le fa in genere negli anni dell'albigo o quelli successivi non nell'anno prima quindi sarebbe un cioè può farlo ok? io mi stupirei se lo facesse e se lo facesse quindi se andasse a 45-50 mila e ci rimanesse io sarei il primo a dirvi fate attenzione perché il prezzo sembra eccessivo allora andiamo avanti quanto ci si può aspettare di drop down all'uscita dell'ETF 20-30%? ecco questa è un'ottima domanda perché? perché quasi sempre quando vengono pubblicate notizie che sono ampiamente attese le notizie vengono già prezzate prima o molto prima dai mercati e la notizia del lancio dell'ETF in questo momento sembra apprezzata perché io lo dicevo anche quando era sotto i 30 mila però comunque verrà sicuramente apprezzata prima ok? quando poi ci sarà la notizia un po' si scenderà 20-30% allora il 20% di 35 mila sarebbe 7 mila insomma a me sembrerebbe un po' tantino cioè che si torni a 27 mila dollari dall'attuale quello un po' mi stupirebbe perché comunque non dimentichiamoci che è vero che quando uscirà la notizia dell'ETF forse un po' scenderà però anche proprio la notizia è bullish dell'ETF perché non sul breve periodo ok? quindi non per gli speculatori intraday ma per gli investitori a medio-lungo l'ETF il prossimo anno potrebbe avere un impatto significativo su Bitcoin quindi avere la certezza che è stato approvato potrebbe essere una ragione per dire ma investo adesso nella speranza che il prossimo anno vada ancora più su quindi io mi aspetto un calo del prezzo di Bitcoin quando ci sarà l'uscita della notizia definitiva dell'approvazione dell'ETF non me lo aspetto molto pronunciato ripeto finché sta sopra i 30.000 secondo me è tutto nella norma e poi però questa notizia dopo potrebbe avere effetto soprattutto se l'incognite se questi ETF avranno successo o no se si dovesse iniziare poi dopo a diffondere la notizia che gli ETF stanno avendo successo allora lì quella è un'altra questione quindi capite bisogna distinguere molto bene tra i movimenti sul breve periodo e quelli sul medio e lungo termine quindi tra i movimenti che interessano gli speculatori e quelli che interessano gli investitori perché una singola notizia può avere un impatto significativo sul breve termine e un altro tipo di impatto sul medio e lungo termine e quindi bisognerà seguire poi comunque come evolve questa situazione perché non è detto che finisca con l'approvazione degli ETF allora vediamo questa domanda perché le volte quando accedo a leggere il totale di alcune cripto varia in positivo e in negativo me l'ho detto che è normale ma non si può stabilizzare in qualche modo allora io non so bene a cosa tu ti riferisca io personalmente non uso hardware wallet perché li ritengo scomodi quindi preferisco non usarli tenete però presente che quando voi aprite un qualsiasi wallet quindi non solo il ledger ma un qualsiasi wallet non custodia ok e questo deve collegarsi alla blockchain quindi molto spesso i software wallet funzionano così tengono in memoria i dati precedenti poi quando voi li aprite ci vuole un attimo perché li aggiornino e quindi a volte può capitare che ci mettano un po' a darvi il dato definitivo cioè quello reale e quindi possono anche variare in positivo e in negativo inoltre tenete presente che se il dato vi viene dato in valuta fiat viene fatta una conversione con i prezzi di mercato e i prezzi di mercato cambiano in continuazione quindi se voi avete una valutazione in valuta fiat fate una prova aprite un wallet guardate che controvalore vi dà in euro poi lo chiudete lo riaprite dopo qualche minuto quel valore sarà cambiato perché ovviamente cambiano i valori di mercato quindi è tutto assolutamente normale vi consiglio però una cosa per evitare il problema del fatto che wallet si deve aggiornare se volete avere un dato preciso andate a controllare direttamente su un explorer certo di explorer ce n'è uno per ogni blockchain quindi se voi avete bitcoin ethereum e magari che ne so usd su tron e voi dovreste usare tre explorer diversi uno per andare a controllare i vostri indirizzi su bitcoin uno su ethereum uno su tron oltretutto spesso i wallet di bitcoin hanno più indirizzi quindi bisogna andare a controllare uno per uno però sugli explorer i dati sono sempre aggiornatissimi quindi quando volete avere un riferimento certo di un dato che è relativo a quanti token quanti credit root stanno su un indirizzo o su più indirizzi andate a controllare sugli exchange sugli explorer tra l'altro vi faccio vedere una cosa vediamo se riesco a farvela vedere perché non so se lo sapete quindi io faccio farvela vedere allora adesso dovreste vedere scusate che ve lo condivido eccolo qua dovreste vedere scusate tolgo la domanda perché se no non si vede bene questa è coin market cap ok se voi cliccate su un qualsiasi criptovaluta prendiamo bitcoin avete qua vedete dove c'è nella barra io sto facendo da web ok avete la chain explorer quindi per ogni criptovaluta qua avete gli explorer tra l'altro per bitcoin ce ne sono diversi io personalmente per bitcoin uso blockchain mi piace di più degli altri quindi se volete è molto comodo quindi in poche parole quello che vi sto dicendo è che anche se non sapete dove stanno gli explorer per andare a controllare su market cap trovate tutto andiamo avanti qual'impatto mediatico potrebbe avere bitcoin quando il prossimo anno diventerà più scarso dell'oro e allora questa è una bella domanda io però non so rispondere però posso dirvi una cosa che il fatto che bitcoin diventi sempre più scarso nel senso che diminuisce la produzione di nuovi bitcoin ricordatevi che dal prossimo anno la produzione di nuovi bitcoin di mezza perché adesso ne vengono creati 6,25 ogni circa 10 minuti dal prossimo anno da febbraio da fine febbraio 2024 saranno 3,125 ogni 10 minuti sarà molto interessante capire primo se effettivamente questo alvin questo dimezzamento verrà entrerà nei discorsi comuni secondo come verrà interpretato perché l'anno prossimo ci sarà black rock e black rock è veramente a parte che è gigantesca cioè condiziona buona parte della finanza mondiale ma black rock ci sta insistendo molto quale sarà la narrativa di black rock io non lo so però qualcosa ci sarà e quindi sarà molto interessante vedere vedi che dicono anche a me capita con il legger dopo passa da solo è solo questione di tempo bisogna dargli il tempo di aggiornarsi ah questa è una bella domanda situazione solana tanta gente su x ha suggerito di shortare dopo aver toccato il livello chiave di 48 perché sembrerebbe che possa ritracciare allora è vero solana è cresciuto tantissimo il prezzo di solana ha fatto davvero un boom perché vi do qualche dato siamo a più 30% nell'ultimi sette giorni e più 310% da inizio anno ok però attenzione tant'è che adesso sta un po' lino scendendo ha fatto meno 3% oggi però attenzione io su solana voglio far notare che il motivo per cui è sceso così tanto in basso è perché ha sofferto tantissimo l'anno scorso prima l'implosione di terra luna e poi dopo il fallimento di ftx perché solana era coinvolto con tutte e due poi il minimo il minimo di questo bear market lo toccò a fine dicembre più o meno quando lo toccò anche tirium poi dopo ha fatto un primo rimbalzo a gennaio e non è mai più tornato su quei minimi quindi è parecchio tempo che non è più sui minimi inoltre vi faccio notare un'altra cosa che secondo me è davvero importante per chi fa ragionamenti su solana allora l'anno scorso dopo l'implosione di terra luna ma prima del fallimento di ftx il prezzo di solana era sceso prima a 44 dollari poi a 29 dollari e poi era rimbalzato a 46 dollari adesso siamo a 40 dollari quindi il prezzo attuale non è alto cioè è un grosso rimbalzo dal momento in cui ha recuperato quello che aveva perso con il fallimento di ftx addirittura prima dell'implosione di terra luna il prezzo di solana era di 100 dollari io ritengo che in questo momento è vero potrebbe ritracciare perché è salito tantissimo spesso capita che quando si sale tanto si ritraccia però in realtà secondo me solo a questo punto avrebbe tranquillamente le potenzialità per tornare a 100 dollari cioè al prezzo pre terra luna ok solo che non so quando probabilmente non lo farà sul breve periodo quindi fate attenzione perché come al solito se siete speculatori fate ragionamenti sul breve termine shortarlo in questo momento magari può anche essere una buona idea io non lo so però potrebbe essere se invece siete investitori sul medio periodo occhio perché questa risalita di solana magari c'ha qualche potenzialità di andare avanti ok che ne dici di BNB allora io su BNB è da tempo è da anni che sostengo che è un progetto che va considerato molto interessante perché Binance BNB è la criptolute di Binance Binance rimane estremamente interessante ok quest'anno Binance ha avuto dei problemi è evidente più di uno però ora è sempre uscito benissimo questi problemi ci ha messo un po' di tempo cioè ad esempio in Europa ha chiuso prelievi e depositi in euro e poi ha trovato un nuovo partner adesso non so se li ha già riaperti però dovrebbe riaprirli ci ha messo un po' di tempo adesso chiude le carte in Europa poi probabilmente magari tra qualche mese li riaprirà ovvio che come al solito dipende da che orizzonti temporali vi ponete certo che se parte una nuova Bulleran Binance sicuramente farà un sacco di soldi e PNB magari tornerà su quindi è un progetto assolutamente interessante interessante perché dietro c'è Binance ovviamente cioè il punto è quello però se stiamo parlando di una Bulleran evidentemente non stiamo parlando del breve periodo perché è difficile che si inneschi una Bulleran adesso cioè per carità magari qualche cosetta può ancora andare su entro fine anno poi magari però all'inizio dell'anno prossimo si scende un po' io personalmente sono dell'idea che su questo tipo di di progetti di criptovalute forse non è molto conveniente fare speculazione sul breve termine cioè su Solana in questo momento magari un po' di speculazione sul breve termine ci sta perché se qualcuno volesse shortarlo e magari gli va bene ecco su BNB in questo momento è un po' difficile capire quindi forse è meglio avere degli orizzonti un po' più di lungo periodo questa non l'ho capita AI se il DNews quanto può scendere il bitcoin 20 o 30% AI ha intelligenza artificiale non l'ho capita molto bene eh giustamente c'è qualcuno che fa notare e lo so che le carte come quella di Crypto.com sono interessanti per il cashback però devo per averle per avere questo cashback devo bloccare dei cro e in questo caso dice 3.500 euro bloccati sono tanti è vero quindi fateci un ragionamento è su questo poi magari c'è gente che tanto comunque ce li ha quei cro che ci ha investito e quindi tanto va allora vediamo quest'altra domanda allora le principali altcoin come i competitor di Ethereum nella top 30 come Polkadot Cardano Polygon Avalanche sono a un punto chiave come mai Solana ha avuto una spinta che altri coin simili non hanno avuto e Solana c'ha dietro un'azienda e non una una rete decentralizzata Dot Polkadot è decentralizzato Ada Cardano è decentralizzato Polygon è decentralizzato Avax cioè Avalanche sono decentralizzate Solana no Solana c'ha un'azienda e le aziende ovviamente si muovono molto più velocemente dei progetti decentralizzati ovviamente ci sono dei pro dei contro io personalmente ritengo che in questo momento Ethereum non è che abbia questi gran competitor nel senso che sì questi Dot forse no però gli altri nascono come competitor di Ethereum per carità Polygon è un layer 2 di Ethereum quindi sono competitor per modo di dire comunque però Ethereum in questo momento è imbattibile è inattaccabile poi magari non lo so in futuro quindi anche Solana secondo me non è un competitor di Ethereum è un progetto che sta andando avanti in modo parallelo e che viene spinto molto perché c'ha molto marketing dietro su Ethereum il marketing è molto limitato su Bitcoin nemmeno c'è praticamente quindi cercate di a mio parere conviene iniziare non solo a ritenere Bitcoin una cosa e le altcoin un'altra ma anche tra le altcoin ritenere Ethereum una cosa e le altre altcoin un'altra e tra queste ci sono molte che si stanno facendo competizione io ad esempio personalmente trovo che sia Polygon che Avalanche sono stanno venendo fuori come dei buoni progetti Ada, Cardano ho paura che abbia esaurito la spinta spero di no ma ho paura di sì e anche Polkadot ultimamente non è che abbia fatto chissà che cosa c'è un po' di sviluppo sulla rete di test si chiama Kusama però invece Solana sta andando avanti molto solo che è centralizzata quindi c'è sempre un rischio perché se per caso l'azienda Solana ha dei problemi qua cioè quel progetto lì va a farsi va a farsi fregare ecco giustamente c'è qualcuno che sottolina che Vanek ha dichiarato che Solana potrebbe raggiungere i 3200 dollari per il 2030 mi chiede se è possibile che faccia una richiesta per un ETF spot su Solana allora tenete presente che Vanek ha già emesso in Europa non negli Stati Uniti un ETN spot su Solana non un ETN un ETN e che però attenzione questa previsione di Vanek non è così cioè andatevele a leggere perché dice una cosa un po' diversa Vanek dice noi abbiamo ipotizzato una forchetta minima e massima minima è un ritorno a 9 dollari massima e 3200 dollari ok quindi non ha senso dimenticarsi della prima parte dire chi se ne frega della forchetta minima prendiamo solo la massima io credo che sia probabilmente per questa notizia che Solana è cresciuta così tanto ultimamente cioè negli ultimi giorni praticamente tenete presente che fatemi dire praticamente il 30 di ottobre cioè pochi giorni fa era 32 dollari poi è salita fino a 46 e adesso 41 ok io credo che sia stata questa notizia ad aver innescato quest'ultima quest'ultimo spike però è una notizia che è stata interpretata in maniera completamente scorretta tra l'altro Vanek non dice che prevede i 3200 dollari adesso non mi ricordo perché dà anche una cifra intermedia ok 3200 dollari è il massimo però il minimo è 9 quindi attenzione perché se uno tiene presente i 3200 deve anche tenere presente i 9 quindi non ha nessun senso bisognerebbe andare a recuperare se non mi ricordo il dato un dato medio intermedio che dicevano che era comunque molto alto era molto interessante ok poi faranno anche un etf su ethereum allora ricordatevi che gli etf su ethereum ci sono già però ci sono solamente sui future sul prezzo di ethereum qua stiamo parlando su un etf su ethereum spot cioè sui token cioè col lateralizzato e si è già stata fatta la richiesta solo che noi sappiamo che c'è stata una sentenza del tribunale che ha detto alla sec che hanno sbagliato a rifiutarsi di approvare gli etf su bitcoin spot e la sec non ha fatto appello a quella sentenza quindi la sec è pronta ad approvare gli etf su bitcoin spot sugli etf su ethereum spot nessuno ha detto niente quindi potrebbe anche bocciarli poi potrebbe esserci un'altra sentenza ok quindi o la sec decide di non avere guai e poi dopo aver approvato gli etf su bitcoin spot approva anche quelli su ethereum spot oppure potrebbe fare la stessa trafila che ha fatto per bitcoin però è già stata presentata richiesta anzi più di una richiesta per etf su ethereum spot a mio parere prima o poi arriveranno come quelli su bitcoin spot magari non subito arriveranno dopo però tenete presente che un conto bitcoin un conto ethereum cioè i grandi investitori cioè blackrock quando ha fatto richiesta per quell'etf non lo ha fatto per noi retail lo ha fatto per i grandi investitori istituzionali e quelli lì vogliono investire primariamente su bitcoin perché vogliono investire su un asset che gli serva come copertura da eventuali politiche e monetarie eccessivamente espansive da banche centrali questo è bitcoin poi qualcuno deciderà anche di investire su ethereum che è inteso invece come una tecnologia in evoluzione che però è un'altra cosa quindi non dobbiamo immaginare che gli etf su ethereum spot se venissero approvati domani avrebbero lo stesso effetto degli etf su bitcoin spot poi visto che il prossimo anno ci sarà l'alving pensa sia plausibile una bull run come il trimestre settembre dicembre 2017 e se sì che stima di prezzo si può fare allora io penso che ci possa essere una bull run perché ricordatevi che l'alving dimezza l'offerta non l'offerta generale su mercati ma l'offerta dei miner ricordatevi che i miner hanno dei prezzi elevatissimi quindi buona parte dei bitcoin che incassano li devono vendere perché se no non coprono i costi e quindi verrà sicuramente dimezzata l'offerta dei miner ok poi sull'altra offerta non si sa quindi è plausibile non so quanto è probabile ma è plausibile però attenzione non come il trimestre settembre dicembre 2017 tenete presente che tutti e tre gli alving passati quindi 2012 2016 2020 hanno visto una forte bull run l'anno dopo quindi l'alving ci sarà ad aprile 2024 potrebbe esserci una bull run già nel 2024 però potrebbe non essere come quella del 2017 ok poi quella del 2017 è tanta roba cioè il prezzo arrivò ad un per 20 rispetto al precedente massimo un per 20 stavolta io la vedo un po' difficile però magari può anche darci ci sono tantissime cifre che circolano non ve ne so dare una una buona c'è chi dice che potrebbe arrivare a 80.000 c'è chi dice a 150.000 che c'è chi dice a 250.000 c'è chi dice a 600.000 e poi magari può anche darsi che nessuno di questi sia azzeccata ok perché va a sapere quindi non me la sento di darvi una cifra mesi fa parlavamo della possibilità di Elon Musk che creasse una sua AI e notizia di poco fa intenzione di istituire le banche tradizionali sfruttando la sua struttura di X non solo Elon Musk ha anche detto che stanno integrando funzionalità di AI su X quindi X ce l'ha già una sua intelligenza artificiale non so quanto è voluta ma ce l'ha già è privata non pubblica cioè non è come chat GPT non è come bard di Google o Bing che voi potete utilizzarla la sta utilizzando solo X internamente quindi ce l'ha già e l'idea è quella di far sì che X diventi una sorta di alternativa al conto corrente bancario integrando però anche servizi di trading probabilmente anche crypto quindi è da seguire questa cosa perché io non so come andrà a finire però X in questo momento ha delle potenzialità davvero notevoli infatti io ci sto lavorando parecchio anche perché io lavoro con le notizie e X è il social delle notizie quindi ha senso che faccia quel lavoro lì però sta veramente lavorandoci molto il nuovo team di Elon Musk e tra l'altro lui ha detto che vuole lanciare i servizi finanziari su X entro alla fine del 2024 ricordatevi è sempre l'anno degli ETF l'anno dell'alve di Bitcoin quindi tanta roba perché sul leggere incollando l'indirizzo pubblico sulla blockchain non si vede la montare delle crypto possibile beh allora se tu prendi un indirizzo pubblico e vai su un explorer vedi sicuramente la montare delle crypto ok e magari sul ledger usano o attingono dati da un explorer che ha qualche problema però voi usate sempre gli explorer che trovate come vi ho fatto vedere prima su CoinMarketCap quindi quelli ufficiali o comunque quelli noti che sono noti per funzionare così almeno siete sicuri che quei dati sono aggiornati e poi la cosa interessante di CoinMarketCap che ce ne sono più di uno di explorer quindi se uno funziona male ne usate un altro e quindi avete tutti i dati allora vediamo un po' un'altra domanda stanno finendo le domande e quindi se volete fatene pure sennò poi a un certo punto chiudiamo c'è Paolo che dice sola mi sa proprio di sola chi la comprerà ora sicuramente non aspetterà di arrivare ai suoi massimi io credo che molti di quelli che stiano comprando ora lo stiano facendo per speculazione non so in quanti la stiano comprando per fare holding sul lungo periodo e quindi il boom di questi ultimi giorni potrebbe anche sbocciare diciamo così in un dump però però io durante questo 2023 ho visto un bel comportamento ve lo dico da uno che segue i mercati cripto da dieci anni quindi forse adesso magari adesso è salita un po' però ovvio che il punto di Solana il punto debole il colo di bottiglia il single point of failure è l'azienda perché se uno non si può mai sapere se è un'azienda ha dei problemi poi magari lì ha però se Solana dovesse lavorare bene non avesse problemi è interessante allora altra domanda Cardano come dicevo prima io Cardano lo vedo come un progetto che è troppo fermo troppo lento era nato con come Ethereum Killer non è riuscito a diventare Ethereum Killer e oramai non lo diventerà più anche perché in questo momento Ethereum Killer io la vedo un po' difficile e non ha saputo reinventarsi hanno fatto tanto marketing ma poi di concreto poca roba se andate a vedere il TVL cioè quanti andiamo a vederlo va quanti quanti fondi ci sono bloccati su Cardano ve lo faccio vedere su Defile Lama eccolo qua lo vedete sì ok allora se noi andiamo a prendere le varie chains cioè le varie blockchain vediamo che su Ethereum il TVL in questo momento è di circa 23 miliardi di dollari ok il secondo è Tron dove ci sono solo 8 miliardi tra l'altro di questi 8 miliardi buona parte sono USDT e quindi insomma c'è un abisso tra Ethereum e gli altri ma andiamo a vedere dov'è Cardano guardate tredicesimo posto meno di Cava meno di Bitcoin ok con 200 milioni cioè questa posizione qua di Cardano mi fa dire che Cardano tra l'altro è uno di quei progetti di 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 seconda terza generazione cioè roba che risale al 2017 2018 eh è troppo indietro non può essere lì cioè eh BASE che è la ehm second layer di Coinbase è nato quest'anno pochi mesi fa è già qua al decimo posto sopra Cardano cioè si è fatto superare va bene che questo c'è dietro con BASE ok ma si è fatto superare da un progetto nato pochi mesi fa eh io temo che abbia perso il treno diciamo così Cardano poteva farcela e invece oramai ha perso il treno andiamo avanti adesso sono arrivati a un sacco di domande allora a proposito di speculazione eh o rinunciano ad acquistare un Etinu per comprarmi mezza eh Air Finance che fece numeri pazzeschi del nell'ultima bull run ah ho rinunciato scusate ad acquistare un Etinu per comprarmi mezza Air Finance e il problema di Air Finance è che sono quei quei progetti quei token che fanno il botto e poi non hai detto che ne facciano altro quindi io non lo so cioè Ethereum il grosso botto l'ha fatto nel 2017 però comunque anche nel 2021 non si è comportato male ok e invece Air Finance ha fatto avere un botto clamoroso io non so se lo ripeterà cosa ne pensi del progetto i gold da poco hanno lanciato anche la loro card a me non convince moltissimo noto cioè una cosa che a me non piace molto ovvero quando i progetti vengono lanciati come decentralizzati ma con forti campagne di marketing cioè se sono decentralizzati il marketing non ci dovrebbe essere se c'è il marketing significa che non sono decentralizzati quindi se vi dicono che sono decentralizzati poi magari non lo sono quindi non è che mi piaccia molto sta cosa cioè Solana non è decentralizzato fa un sacco di marketing ci sta ok vi dice guardate noi siamo un'azienda quindi se falliamo falliamo pazienza in fondo anche Ripple fa le stesse cose e invece questo è uno di quei progetti che dicono che sia decentralizzato poi vai a vedere e magari non lo è quindi non lo so non mi piace molto i miner dovranno comunque mettere sul mercato il doppio dei propri bitcoin a parità di costi energetici quanto lo vedi un problema per il prezzo no metteranno sul mercato la metà dei bitcoin con l'albing perché avranno la metà degli incassi no questo ragionamento su me non ha senso anche perché non possono mettere sul mercato dei bitcoin che non minano con la prossima bull riusciranno a toccare i massimi precedenti per le coin nelle prime 20 posizioni e magari non per tutti guardate che già è capitato già nella bull nel 2021 ci sono diverse cripto rute che erano top 20 poi sono uscite e che non hanno più fatto nuovi massimi quindi ce ne sarà qualcuno che lo farà e qualcuno che non lo farà quindi è difficile dire quali certo in genere va detto spesso sono le le cripto più vecchie che fanno più fatica a crescere tanto ci sono bitcoin e ethereum che seguono un loro percorso ok tutto tutto loro e poi le altre che in genere se fanno un botto poi difficilmente ci ritornano cosa ne pensi dei layer 2 di ethereum in particolare base io sono molto felice che ci siano delle layer 2 anche su ethereum perché secondo me la soluzione principale per la scalabilità è quella non è quella on chain se si vuole rimanere decentralizzati che poi ci sono delle soluzioni fuori da ethereum per la scalabilità ottime on chain però magari non è detto che siano poi così tante decentralizzate quindi molto interessante e base è interessantissimo poi dietro c'è coin base c'è niente da fare però guardate che anche poligon è molto interessante arbitrum è molto interessante optimism è molto interessante quindi ci sono diversi layer 2 di ethereum particolarmente interessanti perché ormai ethereum è qua per rimanere e ha bisogno dei layer 2 quindi poi forse magari ce ne sono alcuni più interessanti di altri non so se base sia tra quelli più interessanti perché non è poi così tanto decentralizzato dietro c'è coin base è interessante vedere l'aggiornamento di plan B che verrebbe superare i 500.000 dollari già nei prossimi anni ricordatevi che ma ve l'ho detto la volta scorsa plan B ha aggiornato sul modello stock to flow l'ha proprio modificato e adesso indica un prezzo di bitcoin durante la prossima bull run un prezzo massimo all'incirca sui 600.000 dollari è un po' altino quindi già un'altra volta aveva sbagliato e adesso che l'ho corretto magari sbaglia di nuovo e quindi fate attenzione vediamo tu oltre ad essere un divulgatore sei anche un investitore allora io quando ho iniziato a fare il divulgatore professionista ho deciso di smettere di fare operazioni significative sui mercati in modo da non essere coinvolto però io prima ho investito quindi io fino al 2017 ho investito quindi io diciamo sono oramai un odler nel senso che quello che ho comprato dal 2018 in poi non ho fatto più nessuna operazione significativa né di acquisto né di vendita però ogni tanto faccio qualche scommessina ok ogni tanto magari che ne so compro qualche cosetta giusto per per divertimento che altro perché poi io spesso quando scommetto che ne so compro 100 euro di un token qui ci perdo quindi lo faccio poco anche perché poi a forza di perdere ma a volte mi è andata anche bene a volte mi è andata bene a volte mi è andata male però non conta questo cioè le scommessine così da 100 euro non so niente di che però insomma io avevo investito prima di diventare divulgatore professionista e poi ho scelto di rimanere il più indipendente possibile il meno coinvolto il più imparziale quando usi leggere ogni volta che fai una transazione non so se hai notato ma ti cambia sempre l'indirizzo sì è verissimo questo anzi sarebbe una cosa molto utile purtroppo allora molti wallet di bitcoin lo fanno molti wallet di ethereum no cioè se uno usa sempre lo stesso indirizzo e le persone che conoscono quell'indirizzo possono andare sulla blockchain a vedere tutto se invece ogni volta lo cambiate possono andare a vedere solo quello che avete su quell'indirizzo che gli avete inviato quella volta quindi questa è una pratica che a me personalmente piace purtroppo i wallet di ethereum non lo fanno è un peccato alla prossima bullrun crow potrebbe riprendersi e tornare ai valori massimi secondo me potrebbe anche essere non so se può tornare ai valori massimi ma crow cioè durante le bullrun gli exchange performano molto bene e quindi può darsi che performi bene anche crow perché è quello dell'exchange che toccò all'inizio della bullrun il prezzo di bitcoin cresce più velocemente delle alte in passato dopo quanto tempo comincia l'alt season allora non c'è un tempo preciso però attenzione nelle passate bullrun l'alt season cioè il momento in cui le altcoin iniziano a crescere più di bitcoin è iniziato dopo che bitcoin aveva fatto una forte sparata cioè le bullrun di bitcoin sono fatte così c'è un primo periodo di crescita che non è particolarmente esagerato è elevato ma non esagerato poi c'è un breve periodo esagerato e poi si torna con un periodo di crescita che è elevato e non esagerato ebbene quando finisce il periodo di crescita esagerato di bitcoin inizia l'alt season ad esempio l'ultima volta e questa è la stessa cosa è successa a gennaio 2021 cioè il botto bitcoin aveva fatto tra febbraio tra dicembre 2020 e gennaio 2021 a gennaio 2021 è iniziata l'alt season poi in realtà bitcoin ha rifatto un altro forte spike tra la fine di marzo e l'inizio di aprile e a metà aprile è iniziato un altro alt season invece a novembre no a novembre sono andati tutti assieme e poi dopo è finito quindi bisogna aspettare questa cosa vera cioè quando il prezzo di bitcoin cresce in maniera esagerata appena si ferma questa crescita esagerata in genere inizia un altro season polkadot è anche polkadot un altro di quei progetti che a mio parere sta evolvendo troppo lentamente poteva fare molto meglio però polkadot è diverso dagli altri ok cioè non è un tiro un chili dal polkadot è proprio un progetto differente quindi ci può stare che evolva più lentamente però deve arrivare da qualche parte io ho paura che non stia arrivando da nessuna parte quindi seguitelo perché se vedete che continua a non quagliare poi magari fa la fine di cardano chi ha network non lo conosco mi dispiace questo molti progetti di DLcoin io non li approfondisco più di tanto ho letto che qualche analista ritiene che se la SEC dovesse approvare l'ITF le proverebbe tutti per non dare vantaggi commerciali a nessuno sì a me risulta così l'hanno detto diversi non analisti diversi esperti di ETF hanno detto che la SEC difficilmente ne approva uno e poi dopo gli altri perché darebbe un eccessivo vantaggio a chi ha ricevuto per prima l'approvazione quindi è molto probabile che le approvi tutti assieme magari non proprio tutti nel senso che se ce ne sono dieci magari può capitare che otto li approvi e due no perché li boccia ok però quelli che approva li dovrebbero provare tutti assieme ecco anche questa altra altcoin veracity bra non la conosco io sulle altcoin minori sono poco preparato allora che wallet usi per detinare bitcoin e altcoin allora dato che io come dicevo prima sono uno che di operazioni non ne fa più di operazioni importanti quindi le scommessie le faccio sugli exchange ok quindi c'è tenere 100 euro su Binance va benissimo tanto male che vada per ci perdi 100 euro e chi se ne frega ho su crypto.com kraken eccetera invece per i wallet dato che io praticamente quello che ho investito ce l'ho lì fermo che non fa niente uso praticamente solo wallet software che io praticamente non uso quasi mai ho il seed salvato su tenuto al sicuro e questi software in genere io una volta ne usavo un po' di più però ci sono alcuni software che poi nel corso del tempo hanno perso un po' di qualità io ultimamente sto usando Electrum Trust Wallet e Eidoo in particolare Electrum e Trust Wallet che mi trovo decisamente bene anche questo layer 2 Starknet non lo conosco Litecoin come lo vedi allora Litecoin io allora Litecoin tenete presente che è ancora più vecchio di Cardano Litecoin è una delle prime altcoin che si erano nate mi sembra che sia del 2011 poi Ripple del 2012 Bitcoin del 2009 e Litecoin secondo me non ce l'ha fatta ragazzi Litecoin è nato come la valuta transazionale alternativa a Bitcoin Bitcoin era pensato comunque fin dall'inizio come soprattutto riserva di valore e quindi era oro digitale veniva definito così Litecoin veniva definito argento digitale per intendere che era la 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 criptovaluta da usare come moneta transazionale da quando sono arrivate le stablecoin Litecoin non lo usa più nessuno come valuta transazionale io non so a che cosa serve Litecoin al giorno d'oggi sinceramente hanno provato a rinventarselo più e più volte non hanno trovato una nuova narrativa io lo vedo come un progetto che o davvero si rilancia oppure potrebbe andare verso il declino mi spiace perché era un bel progetto basato su Bitcoin però poi quando è arrivato Ethereum Ethereum è arrivato nel 2015 ok ha veramente sbaragliato giusto c'è qualcuno che fa notare SBF ha dampato Bitcoin impedendo la invidia aver ragione allora noi sappiamo con certezza che è stato dichiarato che SBF cioè Sam Bankman Fried il CEO di FTX ha ordinato di vendere Bitcoin per tenere il prezzo basso però attenzione nel 2022 quando Bitcoin valeva 20.000 dollari ok non nel 2021 poi può anche darsi che abbiano venduto già nel 2021 quindi io non credo che sia stato SBF a impedire al prezzo di Bitcoin di raggiungere i 100.000 euro 100.000 dollari a fine 2021 come aveva previsto Plan B ritengo però che sia stato un altro motivo cioè la mancanza del mercato cinese cioè a maggio la Cina a maggio 2021 emise un ban sul mining e sul trading di crypto nella seconda metà del 2021 venne a mancare il mercato cinese con il mercato cinese e forse i 100.000 di Plan B sarebbero stati raggiunti quindi magari Plan B non aveva tutti i torti adesso sembra che nel corso del 2024 forse un po' i mercati cinesi possano tornare in realtà sono già tornati però non tutti perché il ban è rimasto però poi i cinesi fanno i loro truschini per aggirare le restrizioni so che escono tanti nuovi progetti ogni giorno esiste un sito che ti dà la possibilità di valutare i nuovi progetti no nel senso che non c'è un sito che ti dà le notizie su tutti i progetti che escono anche perché ci sono tantissimi progetti che sono si capisce fin da subito che sono per niente buoni se non truffa e quindi bisognerebbe filtrarli un po' però ci sono alcuni influencer divulgatori anche italiani che si occupano proprio di nuovi progetti e che forse vale la pena di seguire perché tendono a occuparsi solo dei progetti un po' più seri quindi magari non ogni giorno magari che ne sono una volta al mese però c'è questa possibilità però fate attenzione perché non seguiteli proprio tutti perché molti fanno sono veramente meglio lasciarli perdere quindi affidatevi a qualcuno che sa distinguere i progetti interessanti da quelli non buoni e seguitelo in modo che quando poi c'è un nuovo progetto interessante vi possa dire effettivamente se vale la pena seguirlo o quello mi sono sempre chiesto perché non partecipe ai grandi eventi in Italia al tema cripto insieme ad altri divulgatori una volta lo facevo e ho smesso ma per un banale una ragione davvero banalissima e che mi porta via troppo tempo cioè andare agli eventi io sono e da un po' di tempo che sto lavorando davvero tantissimo tutti i giorni e ho bisogno di poter continuare così io lavoro anche nel weekend oramai praticamente non lo stacco mai e quindi se io devo andare da qualche parte praticamente è come facessi uno o più giorni senza lavorarlo lavorando alla metà o a un quarto e quindi in questo momento non me lo posso permettere perché ho in mente un progetto mio di crescita che richiede questo tipo di impegno un domani magari ci ci ritornerò io fino a un po' di tempo fa ero presente a qualche evento cripto magari non tutti poi per carità se ogni tanto c'è qualche evento qua da me a Torino è diverso perché parto un'oretta vado torno ok però capita raramente è capitato un paio di volte nell'ultimo anno di sempre XRP nel prossimo bull può rilanciarsi dato che ormai i problemi con la SEC sono un ricordo in teoria sì però attenzione i problemi con la SEC sono un ricordo per XRP ma non per Ripple la questione per Ripple cioè la società non è ancora chiusa quindi fate attenzione se verrà chiusa positivamente anche la questione con Ripple allora si XRP potrebbe rilanciarsi altrimenti non lo so vedremo di solito durante una bull quante ondate dove il prezzo sale e poi scende per risalire conti in realtà nelle due bull quella del 2013 e del 2017 l'ondata fu una sola a tratti cioè cresceva poi si fermava un po' poi cresceva poi si fermava e solo o meglio nel 2013 ci furono due ondate però tra la prima e la seconda non ci fu un vero e proprio crollo invece nel 2017 nel 2021 ci sono state due vere e proprie ondate con un vero e proprio crollo intermedio e la seconda ondata che è arrivata più o meno poco poco più in alto della prima perché per bitcoin ad aprile il prezzo arrivò a 64 mila dollari poi riscesa fino a 30 mila meno della metà meno 50% e poi salì fino a 69 mila dollari quindi in passato non era mai capito del genere nel 2013 era salito poi era sceso di un po' era ritracciato di un 20-30% e poi era risalito tantissimo quindi in realtà era un'unica bull run divisa in due fasi di crescita invece nel 2017 ci sono state proprio due ondate differenti nel 2021 nel 2017 c'è stata una bull run sola quindi non si può dire potrebbe essercene una potrebbero essercene due potrebbero essercene tre potrebbe anche non esserci una bull run per carità poi vedremo ICP questa è l'ultima domanda poi chiudiamo c'è internet computer allora io purtroppo lo devo dire a me non è piaciuto per niente come ha esordito internet computer e quando i progetti crypto esordiscono in quel modo a me fanno sempre un po' mettono qualche dubbio cioè ha esordito con un botto pazzesco esagerato quel botto lì io difficilmente lo ritengo organico quindi a mio parere è un progetto su cui bisogna fare un po' d'attenzione perché è uno di quelli in cui c'è stato tanto marketing e quando c'è tanto marketing su un progetto che ripeto dice di essere decentralizzato io ho sempre dei dubbi poi vedremo perché poi magari c'è qualcuno che sostiene che a livello tecnologico sia un progetto interessante io dal punto di vista tecnologico non l'ho mai approfondito però a me piace poco su lighting network bisogna avere sempre dei canali aperti per avere un nodo mi piacerebbe approfondire no non mi pare nel senso che se tu o meglio ovvio che se tu apri un nodo lighting network hai aperto anche un canale ok però è tuo ok non credo che sia strettamente ovvio che se tu hai un nodo e non hai dei canali aperti non te ne fai niente del nodo però credo che si possa fare ovvio che però i nodi servono per gestire le transazioni per gestire le transazioni servono canali aperti quindi anche se in teoria è possibile non avrebbe senso ultima domanda secondo me per i meno esperti una strategia di investimento tranquilla potrebbe essere quella di fare un accumulo di BTC tramite PAC il PAC lo fanno in molti io sono un po' dubbioso sull'essere molto rigidi sul PAC cioè quando i prezzi salgono molto se voi avete già un PAC avviato perché dovete continuare a farlo cioè prendiamo il 2021 inizia con Bitcoin a 29.000 dollari ha senso fare un PAC sì ok va bene poi il prezzo di Bitcoin va a 40.000 ha senso fare un PAC ma massiva può anche andare bene poi il prezzo di Bitcoin va a 50.000 ha senso fare un PAC a 50.000 dollari cioè in quel contesto ma no dai è salito troppo poi va a 60.000 poi dopo scende dopo quando riscende quando torna a 30.000 magari ha di nuovo senso fare un PAC cioè fare un PAC sempre comprare tutti i mesi a prescindere da quale sia il prezzo non so se sia proprio una buona idea perché tanto se compri quando il prezzo è basso e poi non compri più quando il prezzo è alto in realtà ci stai guadagnando ok quindi anche i PAC forse è meglio farli in maniera intelligente cioè o meglio comprare in continuazione poche cifre che ne so 50 euro al mese tutti i mesi a meno che il prezzo non salga troppo ovvio che adesso siamo a 35.000 dollari un prezzo che aveva tranquillamente anche a gennaio 2021 quindi capite chi fa un PAC adesso sta comprando o meglio se ha un PAC a novembre comprerà a novembre certo che se però come dicevo qualcuno prima se il prezzo dovesse andare a 45.000 50.000 euro ha senso continuare il PAC che magari poi dopo torna indietro quindi secondo me anche i PAC conviene gestirli e non essere troppo rigidi però ovvio che comprare poco spesso ok quindi non fare un unico investimento da 5.000 euro ma comprare 50 euro al mese per molti mesi di fila forse è meglio perché iniziate di meno anche perché poi 50-100 euro al mese insomma e che sia poi Instagram spesa ok ok diciamo che abbiamo finito qua io vi ricordo tutti che se volete potete mandarmi via email e domande per la prossima live a martedì dovrebbe essere non mi ricordo che giorno è martedì 7 alle 6 avrò in live il commercialista quindi per tutte le domande per quanto riguarda le ultime cose le ultime notizie uscite per quanto riguarda plusvalenze tasse dichiarazioni eccetera venite a farle martedì 7 alle 18 in diretta che c'è il solito commercialista che vi darà tutte risposte il commercialista proprio esperto in criptovalute la sua azienda si chiama Crypt & Co e quindi potrete fargli tutte le domande che volete anche per ci sono delle novità importanti noi comunque a parte tutto ci vediamo giovedì prossimo come al solito alle 20 e 30 un saluto ciao 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 Grazie a tutti.